Good morning, si, in realtà qui è ora di pranzo, è lunedì e un quarto, e qui c'è pomeriggio, e qui c'è pomeriggio, è lunedì e qui c'è pomeriggio, è lunedì e qui c'è pomeriggio, e qui c'è più di 22 celsius, la temperatura di questo periodo, e è un vento più grande, il vento più grande, il vento più grande, altrimenti stiamo andando verso giugno, quindi c'è una certezza questa. Se riguarda il video, non lo so se il video è sempre separato da questo, su eyes open if you are interesting anyway as you and you will just see from the window ormai è già a pomeriggio quindi non credo che dico it seems, it's a death, eccetera but the really important thing is that with this atmosphere today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful skies and golden sunshine but ormai è già all along the way perché è già pomeriggio per cui, beh, stiamo a continuare in questo render che già va avanti da sei giorni se non erro uno dei più lunghi di tutta la mia storia che vuoi la teleporter col sole per cui say that it is so from the mythical window with the orange, red, blue water curtain ok, and it's green roller shooter pandemic on the top of the physical I'm factoring the shot e from the mythical keyboard amati gx 640 ipg ipg 625 ipg eeva great day in world people follow of each other riporti un saluto davvero a tutti la colazione che già l'ho fatta but also I hope you want a great breakfast io la farò tra poco cioè, scusate spero che vi possiate consolare soprattutto se il tempo che stesse brutto alle vostre parti I'll see you nei videotour si fa il tweet or tomorrow or tomorrow